L'uomo della Sindone è una scultura unica, realizzata da Sergio Rodella a partire dall'immagine della Sindone. È un'icona tridimensionale del Cristo che, con il metodo dell'avvolgimento del lenzuolo, si rivela concordante in tutto e per tutto con la Sindone. Molti artisti si erano spinti nel raffigurare e rappresentare in modo quanto più veritiero e vicino alla Sindone l'immagine dell'uomo in essa contenuto. Per molti, però, consisteva in un lavoro prevalentemente artistico. Altri, con i mezzi disponibili, si sono addentrati anche in studi più precisi, però non sempre vicini a quello che si è scoperto oggi. Dall'impronta alla forma è il processo creativo che ha impegnato Sergio Rodella, artista di Vigonovo, in provincia di Venezia, per più di due anni. L'immagine della Sindone è lo stato di fatto da cui ha preso in via l'avventura artistica e scientifica dell'artista. Misure, distanze, proporzioni, sono i dati che vengono acquisiti per essere poi trasformati da un piano bidimensionale ad uno spazio tridimensionale. Ed è in questa trasformazione che si nasconde il lavoro dell'artista. Un vero e proprio metodo scientifico, perché riproducibile, che si fonda sull'esperienza e le conoscenze anatomiche per compiere un viaggio di ricerca dei giusti volumi, partendo dallo scheletro, cercando la corretta posizione di ogni arto, scoprendo lentamente come ogni segno possa trovare una spiegazione e come ogni piega del famoso telo possa trovare la giusta posizione. Un percorso alla fine del quale, attraverso numerosi tentativi e prove empiriche, l'artista è riuscito ad ottenere ciò che una macchina ad oggi non avrebbe mai potuto fare, ossia scoprire la forma dietro l'immagine. Sergio Rodella è stato un artista padovano, uno scultore appassionato che ha realizzato numerose opere a carattere sacro. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti a Venezia, inizia negli anni 70 un percorso dove ogni opera definisce e consolida uno stile unico. Nelle sue opere vediamo l'incredibile abilità di lavorazione del marmo, la raffinata ricerca dei materiali più idonei e la cura dei dettagli che rendono ogni scultura un'opera di inestimabile valore. E la creazione dell'uomo della sindone lo conferma. Infatti, partendo dal sentimento di fede, Rodella passò allo studio della sindone in ogni suo dettaglio, approfondendo nella storia, le opinioni e gli studi precedenti. Grazie alla conoscenza dell'anatomia umana, iniziò a progettare non solo artisticamente, ma empiricamente al fine di individuare la possibile posizione del corpo affinché combaciasse con precisione con la reliquia.